Ale, 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 milanale, ale, 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 milanale, ho sudato sette cavice nella partita di oggi, meno male che arriva la sosta di campionato, ale, 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 milanale, ecco niente, potrei chiudere qua il video perché tutto quello che vi devo raccontare è racchiuso in questi pochi secondi di canzone. Ragazzi seriamente, allora la situazione è questa, milan che nella partita di oggi ad essere onesti perché mi piace sempre essere onesti con tutti voi, forse il risultato corretto per larghi tratti della partita sarebbe dovuto andare dalla Fiorentina con magari qualche azione del secondo tempo. Perché ragazzi siete tutti storti? Vabbè fa niente, vi lascio così. A larghi tratti della partita doveva andare a favore della Fiorentina, in altri tratti della partita forse era giusto un pareggio, però alla fine come sempre tante altre partite che magari meritavamo di vincerle non le abbiamo vinte. La partita di oggi la vinciamo con un gol incredibile, un cross in mezzo di Aster... che c'è che c'è la... c'è Francesco Specchia, ciao Fra! Ciao, ciao! Cross di Aster Franks, portiere che esce a vuoto, che tra l'altro su tentato colpo di testa di Ante Rebic, palla che arriva in mezzo, insomma prende le gambe dei difensori e poi va Milenkovic se non ricordo male e palla che va in gol 2-1. Tra l'altro nota di colore, segniamo al primo minuto e all'ultimo minuto della partita. Ragazzi, come vi ho cantato nei primi secondi di questo video qua, meno male che arriva la sosta. Perché il Milan visto in questa partita, come un Milan visto nelle ultime partite, è un Milan che sta facendo tanta fatica. Abbiamo vinto questa partita qua all'ultimo secondo, la partita con la Cremonese l'abbiamo pareggiata, anche meritavamo di vincere, però comunque l'abbiamo pareggiata. La partita prima comunque l'hai vinta con un gollo di Liviero, alla fine è un po' di tempo che il Milan sta facendo fatica. Quindi se io adesso venissi qua da voi e vi raccontassi una cosa che non corrisponde a realtà, so già che qualcuno sotto mi direbbe, Lolo ma che cazzo stai dicendo giustamente, scusate la parola. Quindi è giusto dire la verità, il Milan sta facendo fatica, quindi benedetta sia questa sosta che arriva. Perché la sosta arriva nel momento giusto, arriva nel momento in cui noi dobbiamo recuperare i nostri giocatori, quelli che non andranno al mondiale, mi dispiace per Mike, mi dispiace per altri giocatori che non sono stati convocati per il mondiale. Ce li terremo a Milanello e li facciamo fare una nuova preparazione, quindi ragazzi da gennaio poi inizierà tutta una vita diversa. Da gennaio inizierà un campionato diverso con dei giocatori che avranno tanti chilometri in più, chi tanti chilometri in meno. Perché magari giocano in una squadra che è arrivata alla fine del mondiale e quindi avranno tanti chilometri, ripartono da gennaio magari con meno giorni di attesa. Anche lì ragazzi, poi da gennaio sarà tutto un campionato diverso. Quindi tirando un piccolo riassunto di tutta questa prima parte di stagione, io penso che come ha detto Mr. Pioli, i veri punti che mancano al Milan in questa prima parte di stagione, i punti che mancano nel Milan sono la partita con la Cremonese. Avessimo fatto quella partita lì, apposto che fare 1-1, l'avessimo portata a casa probabilmente sarebbe stato quasi un inizio di campionato a punteggio pieno. Poi il Napoli ovviamente sta facendo un campionato a parte, quindi non lo guardo, nel senso loro stanno facendo qualcosa di straordinario. Bisogna vedere se poi dopo riusciranno a portare avanti questa straordinarietà per tutto l'andare avanti del campionato. Vediamo poi cosa succederà, vi ripeto quello che vi ho detto, il Milan fa il Milan, se quelli poi fanno 130 punti, complimenti al Napoli, gli stringo la mano, siamo arrivati secondi, tant'è, complimenti al Napoli. Non credo che sarà così, perché comunque tutte le squadre della storia del calcio vivono di periodi, il Napoli sta facendo benissimo, prima o poi avrà il suo calo. Se il Milan riesce a rimanere attaccato, come sta rimasto attaccato adesso, mannaggia quei maledetti punti con la Cremonese, noi avremo la nostra chance. Comunque noi stiamo facendo il nostro campionato ragazzi, al netto poi di tutte le parole, al netto di tutto, alla fine che contano? Sono i punti, alla fine che parole, parliamo, calciomercato, tutto quello che volete, siamo qua, raccontiamo ogni giorno, 15 minuti di video ogni giorno, ma alla fine che conta? Carta canta, punti cantano, il Milan è lì, il Milan è lì, il Milan è lì, dietro a un Napoli che sta facendo un campionato stratosferico, ma il Milan è lì. Quindi il Milan un'altra volta, fa i punti, il Milan un'altra volta porta a casa la partita, meritava? Forse no, in altre partite meritavamo di farle e non le abbiamo fatti. Quindi ragazzi, sono molto felice di questo risultato, ripeto, forse non meritavamo di vincerla, onora la Fiorentina, la Fiorentina, la Viola ha fatto una partita incredibile ragazzi, Ambra Bat, adesso non mi vengo, vabbè, altri giocatori della Fiorentina, ragazzi, hanno fatto una partita strepitosa, quindi tanti complimenti alla Fiorentina. Questo è il calcio, ripeto, altre partite noi meritavamo di vincere, non le abbiamo vinte. Ragazzi, ultimo video post partita del 2022, ne faremo degli altri poi quando ci saranno gli amichevoli del Milan. Continuate a seguirmi, perché ovviamente noi andremo avanti, vi farò i video giornalieri, parleremo di quello che sta succedendo nel Milan o di quello che succederà, non lo so, vediamo, vediamo. Tra l'altro c'è un po' di novità in arrivo che voglio fare, mio papà sta scrivendo un po' di cose, vabbè, vabbè, ve le leggerò domani. Ciao CacciaVit, un saluto a tutti, Forza Milan, vada via il Qlinter, mi raccomando, pollici su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ciao ciao.